Politica e sanità non si litiga solo per il Vietri di Larino, ma anche per due emendamenti al decreto legge rilancio presentati in Parlamento dalle deputate Tartaglione e Occhio Nero. Un emendamento a costo zero, sostiene Anna Elsa Tartaglione di Forza Italia, ma per la 5 Stelle e Rosalba Testamento non è così, perché la grillina si dice indignata per il deposito da parte delle colleghe molisane Tartaglione e Occhio Nero di due emendamenti praticamente uguali che in caso di approvazione consentirebbero agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico operanti nelle regioni in piano di rientro come il Molise di poter derogare ai limiti di spesa per quanto riguarda i ricoveri di pazienti provenienti da altre regioni. E qui bisogna fare un passo indietro perché il blocco ai ricoveri extra budget dei pazienti non molisani alla Cattolica e al Neuromed lo ha imposto il commissario regionale Giustini, nominato a suo tempo dalla ministra 5 Stelle della Sanità, Grillo. Insomma, un vero e proprio cortocircuito. E il cortocircuito Anna Elsa Tartaglione lo tira fuori nero su bianco mostrando i documenti e dicendo l'Onorevole Testamento farebbe bene a indignarsi, ma per le contraddizioni e gli atteggiamenti messi in campo dal suo movimento politico, i grillini, che sono maestri nell'arte del predicare bene e razzolare male, meno nel tutelare le ragioni e gli interessi dei cittadini molisani. La collega Testamento, spiega infatti la Tartaglione, dimentica di aver votato nel cosiddetto decreto mille proroghe un cospicuo finanziamento ai istituti di ricerca privati. Ripercorrendo i fatti viene fuori che in data 16 ottobre 2017 il decreto fiscale ha previsto l'accantonamento di 32 milioni e mezzo per finanziamenti in favore di strutture accreditate. E il 5 giugno 2019 la Ministra Grillo individuava le strutture beneficiari del finanziamento per l'anno 2018 nel Bambin Gesù di Roma, nel Centro Nazionale di Androterapia di Pavia e nella Fondazione Santa Lucia di Roma. Ma non finisce qui, continua la Tartaglione. Lo scorso 29 febbraio, attraverso il mille proroghe, relatore Vittoria Baldino di 5 Stelle, ai tre istituti di ricerca già beneficiari, quel finanziamento è stato esteso anche per l'annualità 2019 e 2020 per un importo di 65 milioni che sommati al primo ammontano un totale di 97 milioni e mezzo. Pare quindi assurdo ora che l'Onorevole Testamento parlamentare molisana dopo aver votato a favore di questi finanziamenti a beneficio della sanità privata, non molisana, si indigni per la mia richiesta di consentire alle strutture di ricovero e cura a carattere scientifico operanti nelle regioni in piano di rientro dal disavanzo, come il Molise, la deroga ai limiti di spesa previsti in favore di pazienti provenienti da altre regioni. Oltretutto, impedendo a un non molisano di curarsi alla Cattolica o al Neuromed, si violerebbe uno dei principi basilari della Costituzione, che tutela il diritto a curarsi liberamente. Insomma, dopo l'abbordata del Testamento, è arrivata la cannonata della Tartaglione, che ai grillini sostanzialmente chiede, carte alla mano, perché queste differenze tra strutture a danno di quelle molisane? Qual è la logica della politica governativa dei grillini? Colpire il Molise e solo il Molise? E magari perché i Molise non governano loro?